Sono Nuccialboni e sono la responsabile commerciale dell'azienda Melanzi, un'azienda che si occupa del trasformato, ma diciamo che la nostra esperienza risale a circa 30 anni per quanto riguarda la produzione di melanzana. La melanzana diciamo che viene coltivata in cultura protetta seguendo un iter di sicurezza, seguendo dei disciplinari. Da questo prodotto fresco è venuto fuori appunto la trasformazione di queste melanzane. Abbiamo due linee, una dolce e una salata. La salata si avvale di tre prodotti, una crema di melanzana in olio extravergine d'oliva, un sugo di melanzana, dei filetti di melanzana sempre in olio extravergine d'oliva. Hanno una durata di un anno in quanto l'olio extravergine d'oliva non permette, non favorisce poi l'utilizzo per più di un anno. Per quanto riguarda il salato ci avvaliamo della melanzana viola perché è una delle melanzane che si presta moltissimo per questo tipo di trasformati salati. La linea dolce invece vengono chiamate delizie all'arancia e al limone, sempre di melanzana. Per questo utilizziamo la melanzana striata in quanto molto più dolce e ricca di antiossidanti. Diciamo che gli elementi che fanno parte di questi prodotti sono lo zucchero di canna e il miele. Ci rivolgiamo prettamente ai piccoli negozi che vendono i prodotti siciliani. Diciamo che copriamo quasi tutto il territorio italiano e ora stiamo intraprendendo una parte commerciale con la Germania.